Tiago Malasciani è uno dei giovani che si sta mettendo in mostra in questo momento in prima squadra. Raccontaci queste prime esperienze, questi primi passi che stai facendo con i grandi, avendo esordito già dall'inizio praticamente. Per me è un onore fare parte di questa società e di questo gruppo, soprattutto perché giorno dopo giorno posso imparare dai più grandi cose nuove e do un grado anche al mister che mi ha fatto esordire in campionato e mi sta dando sempre più possibilità di mettermi in mostra. Questo per me è un grande traguardo. Come stai vivendo questi ultimi giorni con la prima squadra? Sono dei giorni complicati perché sta durando un po' così, però noi non lasciamo nulla a nessuno, perciò allenamento dopo allenamento diamo il massimo, continueremo a dare il massimo e ogni domenica affronteremo ogni squadra dando il massimo. C'è più spazio per voi in queste ultime giornate, insomma da qui alla fine si prevede che ci sia più spazio per voi ragazzi del settore giovanile, che venite dal settore giovanile del Porto Sant'Epiri? Sì, stiamo avendo più spazio, soprattutto noi della Juniorers perché mi ritengo convolente anche della Juniorers, il mister ci sta dando possibilità di giocare e possiamo apprendere cose nuove. Appunto Juniorers, Juniorers è secondo in classifica, un bel campionato qui. Sì, un campionato tosto dove purtroppo siamo arrivati secondi in classifica, però anche lì abbiamo dato il massimo, ogni sabato e domenica abbiamo combattuto con tutte le squadre del campionato. Grazie Tiago, a bocca a lupo. Grazie a voi.